Abbiamo qui la professoressa Maria Teresa Chialant. Professoressa, nella nostra democrazia le istituzioni pari opportunità hanno una rilevanza concreta o rimangono figure formali? Dunque, io penso che abbiano invece una rilevanza assolutamente fondamentale che si è andata riconoscendo gradatamente nel corso degli anni. Infatti, le università italiane che hanno aperto le pari opportunità un po' alla volta si sono interessate a questo settore così importante nel campo della ricerca, della didattica e principalmente dei rapporti uomo-donna. E credo che il caso di Salerno sia abbastanza esemplare da questo punto di vista perché effettivamente dagli inizi anche complessi, nel 2000, io sono stata nominata delegata alle pari opportunità e sono stata la prima delegata in questa università, si sono fatti grandi passi avanti e è cresciuto veramente l'interesse dell'Ateneo e dei vari dipartimenti, facoltà, docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo. Per cui direi che non è affatto questa, come dire, delega alle pari opportunità, non è una cosa puramente formale ma molto concreta e molto importante. Ormai le università, come dire, devono avere la delegata già da anni perché se no perdono punti, capite cosa voglio dire. Quindi penso che oggi questo workshop delle delegate delle università campane sia significativo perché fa il punto della situazione e apre prospettive, dibatte su quali sono le necessità oggi rispetto anche a cinque anni fa o a dieci anni fa. Abbiamo qui la professoressa Maria Rosaria Pellizzari, direttrice dell'osservatorio GEPO e delegata del rettore alle pari opportunità. Professoressa, ci vuole parlare un poco del programma OGEPO? Sì, il programma OGEPO è un osservatorio interdipartimentale per gli studi di genere e le pari opportunità. È nato nel 2011 ma ha una lunga storia, tutto un background, che inizia dal 2000. Oggi noi siamo qui per un incontro con tutte le università della Campania per formare un network e entrare in quella rete telematica che già comprende le università campane, che si chiama REMIC. E all'interno di quella rete noi vogliamo creare proprio lo spazio relativo alle pari opportunità. Stamattina infatti sono presenti qui tutte le delegate che vengono dall'Università Federico II, viene Anna Maria Lamarra, viene Tina Giancola e poi invece dall'Università di Napoli l'Orientale viene Silvana Palma, dalla seconda Università di Napoli viene Marianna Pignata e poi invece viene Paola Saracini dall'Università del Sannio, dall'Università di Napoli Partenope viene Rosaria Giampetraglia. Non sarà un incontro di tipo, diciamo così, formale, burocratico, accademico, ma sarà un incontro molto operativo, con una tavola rotonda e sentiremo le delegate dei vari comuni, che vengono le consigliere di parità e le presidenti dei Cug, dei vari comuni della provincia di Salerno, alcuni vengono anche da Avellino, c'è la consigliera Lomazzo che viene dalla provincia di Avellino e quindi saremo molto operativi ed è importante in questo momento che l'Università si apra sempre di più a quella che viene considerata la missione nel terzo settore che è quello appunto che riguarda il territorio. E la parola chiave che noi oggi vogliamo, intorno alla quale oggi noi vogliamo discutere è appunto quella delle pari opportunità. Quindi Università non più slegata dal territorio. Da una parte l'Università, dall'altra parte il territorio e con l'ante comune sono le pari opportunità. E qui con noi la professoressa Selvaggio, Maria Antonietta Selvaggio, presidente Cug. Professoressa, ci vuole dire che cos'è il Cug e qual è il suo programma? Sì, grazie. In realtà il Cug, la sigla già dice la cosa, Comitato Unico di Garanzia. Quali sono i suoi scopi? I suoi scopi sono quelli di lottare contro ogni forma di discriminazione, assicurare quindi le pari opportunità tra uomini e donne, in questo caso all'interno dell'Ateneo, ma i Cug sono istituzioni presenti anche in altre realtà, in altri servizi. E soprattutto il Cug ha come sua specificità lavorare al benessere, per il benessere di chi studia e di chi lavora. Adesso io non sto ad esporvi tutto il nostro programma di azioni positive per quest'anno. Vi dico, vi ricordo soltanto quello che per noi è un progetto assolutamente prioritario e che è relativo al benessere degli studenti e delle studentesse del nostro Ateneo. Quindi abbiamo avviato, insieme al professor Cavallo, insieme ad altri studiosi e anche collaboratori e collaboratrici del mondo studentesco del nostro Ateneo, questa indagine i cui risultati ci diranno esattamente qual è la qualità della vita degli studenti e delle studentesse del nostro Ateneo, quali sono i bisogni, quali sono i motivi di disagio e quali sono anche i motivi naturalmente di soddisfazione, perché ci auguriamo ci siano anche quelli. Grazie a tutti.